Benvenuti a questa puntata di Sport e Medicina. Chi mi ha seguito nella puntata precedente, la settimana scorsa, sa che ho iniziato di nuovo un argomento molto interessante che è il trattamento con cellule mesenchimali, con cellule staminali per la rigenerazione ossea, cartilaginea, muscolare, legamentosa. Questa è una cosa relativamente nuova, ma la mia esperienza nasce nel 2014, quindi sono ormai tre anni di trattamento su un numero di casi molto elevato. I risultati li ho illustrati in un recente congresso e sono riuscito a raccogliere una buona casistica che dà un 85-90% di buoni risultati nelle giuste indicazioni. Qualche caso non ha avuto il risultato sperato, ma perché io e il paziente abbiamo un po' forzato l'indicazione, perché non sempre, ne parleremo, i risultati sono perfetti, soprattutto in funzione dell'età del paziente. Ho spiegato la settimana scorsa che una buonissima fonte di cellule staminali è il tessuto adiposo addominale o del gluteo, quindi una liposuzione come in chirurgia estetica permette di prelevare una quantità di tessuto adiposo che viene poi, quindi nello stesso paziente, il tessuto dello stesso paziente in uno stesso momento operatorio, viene poi iniettato e applicato nell'articolazione o nell'organo che ci interessa in ortopedia. Oltre al tessuto adiposo, però possiamo utilizzare anche altre fonti di prelievo con possibilità di avere molte cellule staminali. Per esempio negli atleti il tessuto adiposo è scarsamente rappresentato e quindi la necessità di utilizzare le staminali ci porta a usare quelle del midollo osseo, intendiamoci bene midollo osseo, non midollo spinale, qualche paziente mi equivoca su questo. Il midollo osseo è un tessuto ricchissimo anche questo, di cellule staminali che è all'interno delle ossa, quindi possiamo fare un prelievo semplicemente anche qua con una cannula, con un piccolo foro, ad esempio dalla tibia molto comunemente o dalla cresta iliaca, questo viene fatto anche per tante altre indicazioni mediche. Il tessuto viene elaborato in questo caso con una centrifuga che elimina le cose che non ci interessano, vedete nella diapositiva che prevalentemente nel tessuto midollare prelevato da un osso, dalla tibia, dall'ariliaca, ci sono cellule ematopoietiche, cioè le cellule che formano le cellule sanguigne che non ci interessano, ma cellule mesenchimali che sono cellule che possono produrre osso, cartilagine, tendine e muscolo secondo l'organo in cui vengono iniettate, impiantate. Quindi è un vero trapianto di cellule da una parte all'altra dello stesso paziente. Le cellule prelevate sia anche dal tessuto adiposo, e in questo caso dicevo quando c'è pochissimo tessuto adiposo dal tessuto dell'osso midollare, accelerano i processi riparativi e intervengono dove gli attuali approcci terapeutici non sono soddisfacenti. Vi faccio qualche esempio, adesso la diapositiva può essere un po' difficile da interpretare, questo si rifà ad un lavoro pubblicato molto specifico che fa vedere che in un ritardo di consolidazione, cioè in una frattura che non si consolida, che non si attacca, quindi si chiama pseudoartrosi in termine ortopedico, l'infiltrazione, semplicemente l'infiltrazione di cellule prelevate dal tessuto osso midollare porta ad una guarigione in 53 casi su 60, quindi è veramente un numero molto importante in un tempo molto breve. C'è un'indicazione anche in ortopedia pediatrica, nelle cisti osse dei bambini, che hanno addirittura in questo lavoro molto importante un 100% di guarigioni. C'è un'indicazione, e ve la riassumo in questa diapositiva, quindi in tanti campi di ortopedia, questo vale per le cellule prelevate dal midollo osseo, per le cellule prelevate dal tessuto adiposo di cui ho parlato la settimana scorsa, ma anche per un nuovo sistema di cui sto valutando i risultati per le cellule prelevate proprio dal sangue periferico con un semplice prelievo venoso. I risultati migliori sono quindi in una serie di patologie che vediamo adesso, le pseudoartrosi, come dicevo, cioè le fratture che non consolidano. L'osteonecrosi della testa del femore, una patologia molto importante che può portare a un precoce intervento protesico. Nelle revisioni protesiche, quando dovendo togliere e rimontare una nuova protesi, l'osso è poco rappresentato e quindi ci può essere l'utilità di mettere cellule staminali. Nelle cisti osse, l'artrodesi, che è la fissazione di due ossa fra loro in determinati casi, spesso capita ad esempio nel piede, questo o nella chirurgia vertebrale. Nelle osteotomie, cioè un intervento ortopedico per raddrizzare una parte che è non adeguatamente formata, ad esempio l'osteotomia di tibia nel ginocchio varo, nel ginocchio valgo. Importantissimo questo sistema di trattamento con staminali nelle lesioni cartilagine, quindi nel ginocchio dello sportivo e qui andiamo su quello che è l'argomento della trasmissione, cioè lo sport, è importantissimo il trattamento con cellule staminali nelle lesioni cartilagine che può essere usato sia da solo, diciamo, quando è una lesione non importante, ma anche in associazione a interventi chirurgici di trapianto cartilagineo per accelerare e avere un migliore risultato di interventi più impegnativi. Nelle ricostruzioni tendine, e qui ad esempio vale per il tendine d'Achille, per i tendini della cuffia dei rotatori, per i tendini e per il trapianto di tendini, quale è la ricostruzione del legamento crociato anteriore, l'introduzione di cellule staminali durante e dopo l'intervento chirurgico ricostruttivo accelera di molto i processi riparativi e dà una solidità del legamento o del tendine riparato molto più importante di quella, lasciando a sé, diciamo, lavorare la natura con quello che ha a disposizione. In un intervento normalmente di ricostruzione del crociato il trattamento prevede che vengano cellule staminali direttamente dall'osso che viene trattato, ma con questo sistema aumentiamo, implementiamo il numero di cellule tendine e le diamo una maggiore possibilità di sopravvivenza al trapianto e alla ricostruzione. E può essere utilizzato, oltre alle lesioni tendine, anche nelle lesioni muscolari, quindi in una situazione di lesione da strappo, qui lo sportivo è molto frequente, nello sportivo, in cui l'utilizzo di cellule staminali è ancora di più dell'utilizzo che voi conoscete, molti conoscono, il cosiddetto PRP, cioè il plasma ricco di piastrine, che ha nelle lesioni tendine muscolari una sua validità, ma questo dell'utilizzo di staminali è ancora più valido e più rapido di evoluzione. Quindi in poche parole, per riassumere, noi usiamo le cellule staminali ad esempio nel ginocchio, dove può bastare una semplice infiltrazione, come possiamo fare un acido ialuronico, basta prelevare un po' di tessuto, processarlo e infiltrare un ginocchio che ha un'usura cartilaginea. Questo ha una funzione sia nelle persone più giovani per un danno cartilagino, ad esempio negli infortuni sportivi, e nelle persone più anziane per ritardare l'età in cui è necessaria una sostituzione protesica. Può essere usato nell'anca, l'infiltrazione dell'anca si fa già con acido ialuronico, con un ago che entra nell'articolazione sotto controllo ecoguidato, sotto controllo radiologico, l'immissione di cellule staminali dà un miglioramento proprio del tessuto cartilagineo. Può essere usato nella spalla, nelle lesioni della cuffia dei rotatori, sia nelle lesioni parziali per avere una cicatrizzazione anche durante un intervento o nelle lesioni più importanti, durante e dopo l'intervento, l'immissione di staminali accelera il processo riparativo o addirittura lo rende possibile quando non sarebbe possibile. Questo è un argomento interessantissimo, nella prossima puntata vi parlerò dell'ultima applicazione delle staminali e del trattamento delle patologie vertebrali e dell'ernia del disco. Grazie per l'attenzione.